A Metfal tutto è bene, quel che finisce bene possiamo dire. Una partita ricca di emozioni, ma anche di errori, di ribaltamenti di fronte, pali, traverse. Sicuramente perché nel primo tempo siamo partiti un po' molli diciamo. Con i duelli loro sono stati più cattivi nel primo tempo e sono andati in vantaggio. Due volte poi dopo sono riuscito a fare gol per il 2-1 che ci ha dato un po' di coraggio. Poi nel secondo tempo abbiamo alzato il livello e si è visto il carattere di questa squadra. Sei gol già in questa stagione per te, c'è qualche dedica particolare? Il gol lo dedico, l'avevo programmato a Michi, il nostro tifoso che è scomparso e quindi ci tenevo a rendergli questo onore. Anche nella parte finale del primo tempo, dopo che avevate dimezzato il doppio svantaggio, avevate avuto almeno 3-4 occasioni. E' stato molto bravo il portiere della Civitanovese. Poi nel secondo tempo siete usciti alla distanza. Come spesso fate? Quando riesci ad avere occasioni durante le partite è soltanto una nota positiva. Vuol dire che prima o poi la palla deve entrare. Quindi in questo caso dobbiamo cercare di farli, nel senso che di non sbagliarli perché comunque anche nel primo tempo Ture ha avuto ad esempio una palla importante dove lì si deve fare gol. Però dai ci lavoriamo, siamo una squadra che è sempre in crescita e in me andremo per il meglio. Senti, tu che sei un attaccante, hai fatto gol, però il gol di Ceccarelli è stata una cosa straordinaria per noi. Sì, ho sentito anche il boato del tifoso. Io che ero lì, che gli ho dato la palla. Ma lui ha la tecnica di una finestra nel giocare. Anche io che sono attaccante mi piace dare il pallone perché mi piace anche vederlo giocare. Quindi avere uno come lui deve far sì che i giocatori che giocano con lui, quando chiede la palla a lui le devi dare. Perché è uno che illumina. L'ultima si guarda avanti, c'è la prossima partita con l'Atletico che ha perso in casa, però è sempre lì. Una squadra scorbutica sicuramente molto importante. Però voi tornate all'Angelini, adesso era un po' che non vincevate in trasferta. Lo avete fatto, dovete tornare a vincere anche all'Angelini. Per me è la squadra più pericolosa del campionato. È una squadra che non ha pressioni, non ha tifoseria, però c'è un gran gioco, è una grande società. Quindi dovremmo, secondo me, approcciarlo come se giocassimo contro la San Benettese o le grandi piazze. Quindi sarà una partita divertente. A casa nostra ormai è diventata un... Intrattenimento, spettacolo. È diventato bello, è diventato veramente anche per i suoi amici marchegiani che vogliono anche venire a vedere soltanto lo spettacolo. Quindi benvenga lo spettacolo, ma non dimentichiamo il campo.